Quando si parla di auto o moto d'epoca, la mente corre subito a veicoli storici, magari dal grande valore economico oltre che affettivo. Questa volta il Valtrina Veteran Car ci ha fatto invece sognare, mettendo a confronto la Vespa all'altrettanto gloriosa Lambretta. Due mezzi che hanno segnato un pezzo della nostra storia e della nostra gioventù, simboli di libertà e spensieratezza, ma anche esempio di cosa l'industria italiana sapeva produrre in quegli anni. Il Valtrina Veteran Car Club Federato Asi, in collaborazione con il Lambretta Club Milano, ha infatti organizzato l'evento a Tresivio, al ristorante Al Crap. I complimenti arrivano dalla Commissione Cultura Auto e Moto Club Storico Italiano. Ho sempre detto che con voi si va nel sicuro, non ho sbagliato un colpo, anzi direi che la cosa che onestamente un pochettino ancora migliora è che riusciate a migliorare ogni volta qualcosa sempre di nuovo, di sempre più interessante. E questo è sempre molto più difficile. Meglio la Vespa o la Lambretta? Quasi un derby, un Inter Milan degli scooter italiani, che si conclude però senza né vinti né vincitori. Cerchiamo di trasmettere sempre quelli che sono i contenuti di un'azienda, parlo degli innocenti, non tanto della Lambretta, che fa parte dell'industria italiana e ritengo che abbiamo l'obbligo di portare in giro questo messaggio perché è una delle tante aziende italiane che ha fatto la differenza del Made in Italy. La Lambretta è nata a Milano, sulle sponde del fiume Lambro, la Vespa in Toscana, a Pontedera. E anche stavolta il presidente Luigi Frigerio ha saputo stupirci. La Vespa Lambretta è un passaporto per tutti gli appassionati di motori, certamente a due ruote. Questa sera veramente tanta gente, tanta gente molto attratta da quello che si è detto, da quello che si è presentato. Una grande moltitudine di club amici hanno voluto collaborare alla realizzazione di questa manifestazione, una serata culturale, come facciamo nella stagione invernale. Certamente è fondamentale la presenza del dottor Luca Manneschi, il presidente della Commissione Cultura di Asi, ma altrettanto importanti e fondamentali è stata la partecipazione del Mondo Lambretta con il presidente dell'Ambretta Club Milano. Coinvolto Marco Caloi, presidente del Vespa Club Milano e tanti altri club di appassionati della Vespa, ai quali va il ringraziamento di Frigerio. E tutti i club Vespa, il club Vespa, il club Vespa Milano e il club Vespa dell'Ambrianza, sono stati molto attivi nel collaborare e aiutare alla realizzazione ottimale di questa serata. Dopo la serata di Vespa Lambretta, il responsabile della comunicazione Flavio Brosel guarda già il prossimo evento sulle nevi di Livigno, il 9 e 10 marzo, con l'auto motosciatoria, anche qui. Aspettatevi sorprese.